13 risultati utili consecutivi, 9 vittorie di cui 3 filate e 4 pareggi, 25 gol realizzati, 10 quelli subiti in questa impressionante striscia. Sono i numeri della Super Salernitana che con Perrone in panchina ha ingranato la marcia giusta. I campani nell'anticipo della quindicesima giornata si sono sbarazzati del Martina Franca con una rete di guazzo nel primo tempo davanti ad un pubblico numeroso ed appassionato. Nessuna delle concorrenti è riuscita a tenere il passo della nuova e solitaria capolista. Il Ponte d'Era non è andato oltre il pareggio casalingo con la Vigor Lamezia, mentre l'Aprilia ha addirittura ceduto l'intera posta in palio al non irresistibile Gavorrano. Di Nocciolini la rete che ha certificato la crisi degli uomini di Vincenzo Vivarini a secco da 5 giornate e domenica prossima sfida a Marcorda Chieti. A proposito dei teatini, a Foligno è arrivato uno stop inatteso. Subita la rete di Balistreri in apertura, non è bastata la reazione che ha fruttato una traversa e diverse occasioni, ma il Fortino Umbro ha retto e il Chieti è tornato a perdere in trasferta a distanza di due mesi. L'ultima volta, sempre di misura, era accaduto a Pogibonsi il 14 ottobre. A consolare mister De Patre i risultati non esaltanti delle altre. Proprio il Pogibonsi è caduto a Mugnano contro l'Arzanese. Di caso ed Elia le reti campane nel mezzo l'illusorio pareggio di Pera. Nella parte bassa della classifica spiccano i successi di Borgo a Bugiano, Interregio e Campobasso. I bugianesi superano il fanalino di coda fondi grazie ai gol dei soliti D'Antoni e Dimash, che rispondono al laziale Bernasconi. Bomber Zampaglione, su calcio di rigore, regala tre pesantissimi punti ai reggini, che lasciano così l'ultima piazza, al pari del Campobasso, che con l'Acheb batte la Versa Normanna in condizioni ambientali da Nord Europa.